Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Sono Ciacchinoi3 e questa volta siamo in uno teatro per vedere uno spettacolo. Questo video lo dedico a tutti coloro che amano il mondo del teatro e dello spettacolo. Quindi buona visione e gotetevi lo spettacolo. Grazie a tutti. Ben ritrovati. Come avete visto la serata è appena conclusa. Vi faccio vedere la sera più bella ed è questa qua. Vediamola. Grazie mille. Prego. Ciao ciao ciao. Ho deciso di farvi vedere queste immagine perché mi sembrava più bella e più significativa. Comunque se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Seguite sul mio sito, sul mio blog e sul mio profilo Facebook dove troverete i link nella parte della descrizione. E iscrivetevi sul mio canale YouTube per avere ulteriori aggiornamenti. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.